ciao bimbi come state siete pronte ad apparecchiare con me iniziamo a lavarci benissimo le mani guardate mettiamo il sapone le saponiamo bene 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 desciacquiamo me l'asciugo adesso diamo una polidina al tavolo la mia famiglia è piccola piccola siamo solo due adesso prendiamo la tovaglia ok così la mettiamo per bene eh sennò ci cade tutto poi stesa per bene poi prendiamo due corchette i tovaglioli due bicchieri e due piatti che vogliamo mettere poi ma l'acqua importantissima acqua fresca eccola e la tavola è pronta ciao bimbi fatemi vedere la vostra tavola come apparecchiata bene bene va bene 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 Grazie a tutti.